salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video purtroppo è un periodo che scusato il fiatone ma è un periodo che con questi stop and go forzati sono completamente nuovamente fuori forma quindi devo arrangiarmi ad andare nei posti dove sono già stato e quindi che conosco e che so che posso fare diciamo abbastanza agevolmente visto la poca forma fisica che ho purtroppo e quindi oggi riusciamo nuovamente lo faccio vedere nella cava dove sono già stato oggi sono con il fisher f22 dotato di cuffie col filo sarà un po una rotura di scatole ma insomma si prova a fare qualcosa di mettersi un po in forma però sono previsti altri lock down altre altri stop forzati ma quest'anno quest'anno è tutto un cassino così via io comincio anche perché già un'oretta un po boia se farò un'oretta e mezzo due sarà un miracolo eccolo lì bello lucido lucido è un basta la sicura si vede eccolo qui un bel bossa queste signori sembra un'orgiva impattata non sono sicuro qui c'è del bianco mi sa che proprio un'orgiva impattata guardate che ho trovato la natura ragazzi si arrampica su tutto una lattina perché resta di una lattina vecchia allora ragazzi si intravede lì non so se la vedete moneta però la tiriamo fuori è troppo metta a fuoco male il telefonino che si eccola euro se sembra 20 centesimi le avranno aperte quest'estate questo ha tutta l'ora di essere una scherzo di una bomba c'è anche una filetta sua interna ma credo allora in questo punto qui un bel segnale sui 56 57 troppo sono col telefono e fare due cose contemporaneamente ancora un casino sicché scaviamo e poi vi faccio vedere cosa trovo un buco un gran bel tappo sembra di olio d'oliva che fregatura e roba da matti ho trovato il numero sembra poi il 6 e il 9 un 9 mi sembra di aver trovato anche in un altro video già un altro numero mi sembra di aver trovato l'uno ragazzi io non do numeri io trovo numeri e giocati all'otto va allora questa volta ho trovato un'orgiva impattata e si vede anche bene ok io il video lo finisco qui di ricerca è venuto un po buio prendo le gambe e me ne vado ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti